5 segnali per scoprire un manipolatore Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista I manipolatori sono una brutta razza ed è importante che tu li riconosca in tempo per non finire come tanti o tante, purtroppo, in un'aula di tribunale Ma quali sono i 5 segnali per scoprire un manipolatore? 1. Ti fa sentire in colpa Se non chiami per un po' di tempo ti dice che lo stai trascurando Se esci con amici o amiche ti fa sentire in colpa per averlo preferito ad altri alimentando in te un divorante senso di colpa 2. Proietta le sue insicurezze su di te Ti dice che è stato tradito o tradita in passato e che dunque tu devi dargli la certezza che non sei come gli altri Così facendo limita la tua libertà 3. Ti fa dubitare delle tue capacità Ti sminuisce dicendo che non sei capace a fare nulla e che senza di lui o di lei non puoi farcela da solo 4. Ti dà la responsabilità delle sue emozioni Se lui o lei è triste, arrabbiato, depresso dirà che sei tu la causa del suo male 5. Ti fa pensare che desideri quello che lui o lei vuole Ti dice che quel parente, quell'amico, quel collega di lavoro è geloso di te, è invidioso, che non fa per te, che vuole il tuo male Così facendo ti allontanerà da lui facendo intorno a te Terra bruciata Questi sono i 5 segnali per scoprire un manipolatore Grazie a tutti Grazie a tutti